Benvenuto in mia casa. Entrate e lasciate un po' della felicità che recate. Il conte Dracula? Io sono Dracula e vi porgo il benvenuto in mia casa. Entrate. Voi spero mi scuserete se non mi unisco a voi, ma ho già cenato e non bevo mai vino. Un antenato. Noto la somiglianza. È l'ordine di Dracula. È un dragone. Un antico ordine che impegnava i miei avi a difendere la Chiesa contro tutti i nemici di Cristo. Ma quel rapporto non ha avuto interamente successo. Oh, sì. Non è argomento da ridere! Noi, Dracula, ne siamo fieri. Quale diavolo fu grande quanto Attile il cui sangue scorre in queste vede? Il sangue è una cosa preziosa di questi tempi. I giorni tra battaglie sono lontani. Le vittorie della mia stirpe sono ormai racconti da narrarvi. Io sono l'ultimo della mia specie.